Ciao a tutti ragazzi, sono Diamond e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo anche con i miei amici diamanti No, lo cazzo sono Gli ho persi Diamanti Come vedete ho già fatto un piccone Ne ho già raccolti altri Siamo a 16 Ho preso un pezzo di ossidiana senza farlo apposta E stavo scavando ancora un po' di E approfittavo un attimino per cercare qualche materiale Comunque niente da per farvi vedere i diamanti Finisco di scavare e torno su Ci vediamo tra poco Ok, ci sono delle novità Ho aggiornato la casa Ho aggiunto il tetto E ho diviso la casa in due parti Poi ne aggiungeremo una terza Per la sala La stanza delle quest Dove metteremo tutte le ceste Che riempiremo con gli oggetti Della questcraft Che avete visto nella lista del primo episodio Ecco ci siamo Qui ho scavato Nell'andre questa qui Vedete ho fatto questo pezzo qua Diciamo ci metteremo le ceste Qua le fornace eccetera eccetera E qui non so Vedremo Magari lo abbelliremo con qualcosa Ora oggi pensavo di spostare tutto Quindi le ceste che ci sono di qua portarle di là Diciamo che intanto mettiamo giù questo e questo Un bel po' di oro Un bel po' di ferro Cercare appunto di spostare tutto E poi iniziare a fare l'impianto Iniziare a smistare un po' le cose Cioè le nostre Gli ur Tipo il ferro Quella roba lì Andiamo di là Mettiamo così No Ogni da migliora Rompiamo Qui Qui Dopo il mio Non è ancora no Facciamo una cosa pratica Facciamo 1 2 1 2 1 2 1 2 Andiamo di là Prendiamo altre Altre linee Due cose semplicemente Facciamo così Altre ceste 1 2 1 2 1 2 1 Ok Le torce ci dovrebbero qua infatti Facciamo qui in mezzo Ok Mettiamo anche qualcuna qua Casio Vado Qua 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 Poi mettiamo anche Qui 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 E qui Qui Poi diciamo che lo miniamo qua così Mendo là Qua così Facciamo una 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 Come c'è? Una così Una Una Ok 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 E iniziare a metterviare Quindi facciamo qui Mettiamo i blocchi di questo Di ci mettiamo Allora Tutta questa roba Questo Andesite No Questa Questa Anzi Anzi Mi chiamiamo di ora Qui ci mettiamo solo con questa Qui ci mettiamo tutto costruito Quindi andesite Questa roba qui A grave Anzi Tutta questa roba Ok Ok Sempre ci mettiamo Questa 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 Questi Qui ci mettiamo la terra Ok Questo Anzi Poi Prendiamo tutta questa terra Un pochi Vale Ok Ok eh quindi qui questo 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 poi vediamo questi li spostiamo anche questi però le scende la dobbiamo, ah questa roba, prendiamo ok facciamo qui ci mettiamo redstone carbone ok ah dopo ci mettiamo con can per cui ci mettiamo questo 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 qui ci mettiamo tutto che telefono di nuovo legno dopo so mai li spostrò io se non mi piaccia come sono messa diciamo poi mettiamo in mezzo non ho altre ceste, però no, devo far male non ho altre ceste, però no, devo fare male ecco, lo sapete, ci metto già questo ok, prendiamo questo, questa, scusate la portiamo di qua, la mettiamo lì in mezzo, mettiamo questa, questa, basta poi ci metto anche le cose preziose, quindi le pietre anche la frenza, anche la hop che palle, ora dovrebbe, dovremmo rispostare tutto se non sbaglio, per eliminarli in bontà, anche lì, cazza fatta che è, il giro santo qui ci mettiamo, tutto quello che riguarda le pietre insomma, 15 bofiori qui è, questo, coloro quellì questa, qua, questa qui, qui, questa per sbarcarlo un po' così ok, poi torniamo indietro rompiamo, questa, questa e questa, thank you per tutto, si andiamo, anzi mettiamo qui fufufufufuf mettiamo qui guardate, facciamo una cosa strategica No, portati. Allora, ci metiamo adesso. Questa roba qui. Le quattro formaggi. Quattro formaggi. Un, due, tre, quattro. E mettiamo... No, qui, no. E mettiamo... Un, due. Però qui dovrò entra. Puoi vedere perché. Questa qua è violita. Facciamo... Ecco, ecco. Ci mettiamo, eh, due cesta. Anzi, sì, dai due cesta, va bene. Poi il ferro non ce l'abbiamo. Allora, per ora mettiamo a fare del ferro. Facciamo così. Così. E intanto per fare del ferro mettiamo questa roba. Questa la mettiamo... Mettiamo a caso. Ora un'altra cosa da fare, vediamo. Allora diciamo che... Per la serie, come sto facendo un calcolo del video. Eh, da parte niente. Niente, non... Niente. Ok, ragazzi, rieccomi. Come vedete, ho velocizzato la parte che c'era prima. Non pensavo durasse così tanto. È durata circa otto minuti. Ehm... E ora volevo iniziare a fare, ehm... Le coltivazioni. Prendiamo... Dove sono? Non mi ricordo. Qua. Prendiamo carote, sì... Eh, sì. Sì. Sì, queste... Ehm... E queste, per ora. Poi prendiamo... Le fence. Che dovrebbero essere qui. Ok. Ehm... E basta. Per ora. Ah no, la zappa. Giusto. Ne ho due. No, ne ho una. Vabbè, non durerà una sega. Dove ci metto i cartelli, anche se non... Che non mi ricordo. Quattro. La crafting table. Un dogazzo sta. Ok. Vabbè, faccio così per ora. Mettiamo la crafting table. Facciamo due... Asce. Sì. Sì, asce, va bene. Due zappe. Andiamo qui. Facciamo... E che cazzo, c'è la casa però qua. Ricopriamo tutto. Volevo vedere una roba. Ricopriamo tutto. E facciamo da qua. Quindi, fai questi due. Ok. Ok. Ancora uno. Poi saltiamo... Ehm... Uno, due... Cinque. Ok. Poi saltiamo uno, due, tre, quattro, cinque. Fantastico. Ho finito la pala. Andiamo a farne una di diamante. Eh... Il diamante è qua. Un diamantino. Un... Due stichi. E ci facciamo una paletta. Molto bene. Pacchetta, sì. Pacchetta di diamante. Paletta di diamante. Tiriamo giusto albero che mi sta sulle palle. Ho detto con amore. Dai su, cazzo. Tu che te... Questo lo tiriamo giù. Ok. Eh... Direi che può bastare. Sì, penso. Un... No. Ce ne va ancora uno. Ma taglio il video. Torno subito. Ok. Eccomi. Ho sistemato un po'. Ora facciamo... Così. Togliamo qui. Anzi, facciamo con i fence. Fence è meglio. Lo setting. Ok. Allora facciamo... Prendiamo le fence. Facciamo così. Ho sbagliato. Ecco. Facciamo così. Così. Ok. Lo faccio così. Ne faccio altre. Ne facciamo qui all'istante. Crafting table. La appoggiamo qua. Appoggiamo qui. La piazziamo. Qua. Stecchini. Ok. Facciamo così. Così. No. Com'è che era? Che cazzo? Ne so. Io non mi ricordo. No. Così. Sì. Ok. 46 non bastano. Ma dettagli. Mh 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 mh. Mh 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 mh. Mh 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 mh. .. Facciamo così. E va a cagare Così Grazie Nananananana Eh Tech Dopo tutta sta roba Sarà automatizzata eh Cioè fare tutto da solo Quasi tutto A parte piantare Ma vabbè Sono dettagli quelli Anzi Eh Non lo so sapete Vedremo Ora Me ne servono altre Andiamo a prendere un po' di legno Un po' di legno Ok Facciamo I stick ce li abbiamo Facciamo Facciamo così Ok eh E stick Temporale Che tuona Su tutto qui Che cazzo Ok Quanto sono? Ah 14 Ho letto 18 Ora Andiamo a Prendere Dell'acqua Cazzo Cazzo E pecora di merda Grazie Andiamo a prendere dell'acqua Come vedete ho rimesso la modalità normale Perché Pacifico era troppo easy Nananananana La mia spada Ragazzo sta qua Poi Facciamo così 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 Ok Prendiamo ancora un po' di acqua Qui Non so che cosa Mi sa che ci metterò le canne da zucchero Probabile Ok Good job Ora prendiamo la nostra Anzi La nostra crafting table Facciamo Easy lab Thanks E li mettiamo qui Good job Mettiamo qui Ok Torniamo di là Facciamo così Ok Facciamo Ah l'ultima volta Qua non c'è l'acqua Trec Ora c'è Co O O Così Dai Così Ok No ho sbagliato Ho rotto anche l'ascia Fantastico Così Ok Poi La luce Pensiamo all'illuminazione Mettiamo sugli angoli Penso che sugli angoli possa bastare Spero che sugli angoli possa bastare Ora vediamo Direi che va a bolla Ok Poi mettiamo Una lì Una qui E una Qui Ora Zappa in mano Quando la terra Quando la terra è bagnata Quindi quando diventa di un marrone Più scuro Perché Cioè Cresce più in poi Anche qui facciamo Ok Anche qui Ok Ok Me ne è bastata una Molto bene Eh Ho sbagliato Perché lì c'è andata le canne da zucchero Vabbè Sono un coglioni C'ho fame Ma non Ma non mi interessa Perché io pianto tutto Vabbè Io pianto lo stesso Perché non è che mi interessa più di tanto Perché Cioè più che altro perché non ho tempo Mi interessa però non ho tempo Anche perché c'ho fame Ok Facciamo così E allora Sembra di aver visto Uno scheletro No C'è l'allucinazione Ok Poi Oh Giusti giusti Erano proprio Le nostre potato Vediamo 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 Ti prego Sì Ok Che cazzo fai Mettiamo le nostre patatine Patati Patata Patasnella Come te Ok La smetto Le carote Che cosa cazzo sto facendo Vabbè Lasciamo perdere Qui è giusto Ci sono le patate E là c'è andranno le canne da zucchero Che è Vediamo se riesco a metterle ora Ma sì Andiamo No anzi Facciamo da lì Anche dalla Non so se crescono anche sul Terra questa no Infatti Quindi dobbiamo appiattire la terra Come vedete Stai saltandoci sopra Torna normale Tutte 8 Finché non crescono E niente ragazzi Raccogliamo sta roba Ottimo Raccogliamo quello schifo Niente I cancellini mancano I cancellini La cosa più Quasi più importante Manca Ok Ne faccio solo due Qua c'ho altri stick Ne faccio un altro Un altro E sono quattro Ok Tam Tac Ok Tac 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 E che cazzo Di senso ho avuto Metterlo qui E Tac Bella lì Anche per oggi abbiamo fatto La nostra Cosa quotidiana Nel prossimo episodio Inizieremo a Smistare Diciamo Le nostre risorse Spero che la serie Vi stia piacendo Vi ringrazio tutti per seguirmi Anche se siete in pochi Cioè uno Per ora Spera che si potrà Salire con gli iscritti Cosa che spero accadrà Niente Grazie a tutti per avermi seguito Spero che la serie vi stia piacendo Ciao a tutti Wow Ciao